buongiorno a tutti e benvenuti è arrivato il momento di fare l'estrazione per il regalo che ho messo in palio per voi dal mare un po di cosette che ho comprato dal mare ho pensato anche a voi gli partecipanti sono tutti qua sia da youtube che da alcuni gruppi su facebook io accettato anche la loro partecipazione perché alcuni di loro anche che non ci riescono a fare un commento su youtube sia perché non riescono non sanno fare sia perché non so il perché non perché per fare un commento su youtube bisogna avere un account se no non te lo fa fare e qualcuno non sa come fare e non è importanza questo e siccome al momento dei vostri commenti io purtroppo quel momento non ci sono non avevo tempo per dare a voi un numero per realizzare l'estrazione random allora facciamo in questo modo e penso che anzi va bene così sembra un'estrazione allora tutti bene quindi sono quasi di tutti quanti qua mescolare un po e adesso vediamo prendiamo il primo vincitore evitiamo che era maria manterosso ecco prima vincitore e adesso vediamo il secondo vendiamo sempre tutti i pillettini vediamo qua indietro non c'è più nessuno non sono tutti laguna blu ed ecco questi sono queste sono le due vincitrice laguna blu e maria monterosso e sono proprio contenta contattatemi su messenger così mi date il vostro indirizzo e con calma non dico subito ma settimana prossima io vi invio il vostro regalo grazie a tutti di aver guardato il video e a presto ciao